Se sei venuto in questo video puoi sicuramente trovare un modo agevole e veloce per guadagnare denaro e quale è il modo migliore o meglio lo strumento migliore se non quello che vede protagonista internet che vede protagonista il mondo dell'online sai benissimo che però girando un po' per quelli che sono i vari siti web o quelli che sono i video qua su youtube hai trovato veramente tantissimi argomenti trattati, i più vari ma soprattutto molti richiedono una preparazione di base molti richiedono tanto studio, molti richiedono di lavorare tante ore ecco in questo video voglio proporti l'opportunità di guadagnare senza lavorare sembra un titolo provocatorio? in realtà scoprirai in questo breve video che non è assolutamente così devi sapere che c'è un'opportunità di guadagnare denaro direttamente da casa servendoti del mondo dell'online, servendoti semplicemente di una connessione internet e di un pc per iniziare a guadagnare anche uno stipendio semplicemente dal tuo divano di casa ti sto parlando dell'opportunità più grande e la migliore per generare profitti in fase di accumulo per generare profitti che vanno dalle migliaia e migliaia di euro fino a 100, 120, 150 e anche 300 mila euro ti sto parlando del mondo delle scommesse sportive so che molto probabilmente starei pensando ancora con questo mondo delle scommesse sportive oppure sì ma il mondo delle scommesse sportive non è attendibile Cristian non posso farci nulla se quel mondo è così difficile ed è così vario e molto spesso non dà garanzia e hai perfettamente ragione perché se vedi il mondo delle scommesse sportive come può vederlo un omare scommettitore che va la domenica a giocare la sua bolletta come la chiamano loro una schedina oppure semplicemente una serie di match in successione sperando di sbancare ecco se fai questo probabilmente non conosci il professionismo e probabilmente sei abituato perché la matematica ti condanna in questo senso a perdere spessissimo il tuo denaro ecco il mondo del professionismo e il mondo delle scommesse sportive si muove totalmente in maniera opposta al mondo che ci ho appena descritto il mondo del professionismo è qualcosa di totalmente diverso è un mondo che si serve della matematica è un mondo che si serve di strumenti di gestione del rischio del capitale di strumenti finanziari è un mondo dove alcuni personaggi chiamati consulenti è questo il mio caso guadagnano denaro con le scommesse sportive è un mondo dove le persone generano profitti lavorando pochissimo ore al giorno o come nel caso che ti stoppe spiegare dove non lavorano assolutamente per guadagnare senza lavorare nel mondo delle scommesse sportive devi fare semplicemente una cosa devi affidarti ad un professionista che sia un consulente che sia un tipster comunque devi affidarti a una figura professionale che analizzi i mercati al posto tuo che ti sappia fornire degli strumenti matematici degli strumenti finanziari e che ti aiuti a generare profitti col mondo delle scommesse sportive sostenendoti in ogni tuo passo devi affidarti insomma ad un professionista solo così potrai guadagnare velocemente denaro effettivamente senza lavorare semplicemente a fronte di qualcosa che viene chiamato un capitale a fronte di un investimento anche minimo su questo particolare tipo di mondo devi sapere che se ti affidano un professionista o meglio se ti affidano un consulente è questo il mio caso hai la possibilità di guadagnare denaro fin da subito in base al tuo investimento rischiando veramente poco e guadagnando veramente veramente tanto questa opportunità è data dal fatto che la gestione del capitale sarà interamente a discrezione del consulente che ti aiuterà ad impostare il money management migliore per te e quindi di conseguenza ti aiuterà ad avere i maggiori profitti possibili da quell'operazione del mercato tenendo sempre basso rischio il betting a differenza di qualsiasi altro tipo di investimento di qualsiasi altro tipo di lavoro ti occupa pochissimo tempo al giorno se lo vuoi fare in maniera autonoma seguendo anche i consigli che do gratuitamente in questo canale youtube e ti ribadisco che se non lo sai il 97% dei miei contenuti sono totalmente gratuiti mentre il 3% passano da un'azienda di consulenza per cui lavoro per cui io lavoro e per cui io svolgo il ruolo di consulente comunque se vuoi farlo in maniera autonoma comunque è un lavoro che ti occupa pochissimo tempo è un lavoro che puoi fare dove vuoi quando vuoi soprattutto come vuoi non hai padrone devi solo seguire un po' i mercati sportivi ma anche quella è una cosa che puoi fare quando vuoi e come vuoi puoi farlo semplicemente da casa come sono io in questo momento puoi farlo veramente in vacanza in viaggio come mi capita spesso di fare anche a me e quindi puoi veramente usare il betting come arma per guadagnare la vera arma per guadagnare denaro facilmente in fase di accumulo è un'arma veramente interessante è un'arma dove il mio mestiere che svolgo da 3 anni di consulente ha, questa arma ha aiutato moltissime persone ha cambiato la vita di alcune persone che hanno seguito dettagliatamente i miei consigli ha cambiato le loro finanze ha cambiato la loro, come ti posso dire e in un certo senso ha stravolto e ha cambiato la loro vita perché alcune persone hanno deliberatamente deciso di abbandonare quello che era il loro lavoro perché li impegnava troppo perché li stressava troppo perché li faceva arrivare a fine giornata distrutti stanchi, demoralizzati, frustrati e non gli permetteva di dedicare il loro tempo ai familiari e alle persone che amavano di più e hanno deciso di fare questa scelta drastica questo cambio di vita ecco, l'hanno deciso di fare ci sono persone che hanno cambiato le loro finanze hanno acquisito più denaro e ci sono delle persone che invece hanno voluto semplicemente provare il mondo degli investimenti del betting o comunque il betting professionistico e che attualmente guadagnano quei 300-400 euro al mese ma che comunque guadagnano denaro e lo fanno tutti i mesi con costanza, con regolarità senza rischiare più del dovuto e ottenendo i giusti profitti da quello che è un investimento o meglio un lavoro forse nemmeno possiamo definire un lavoro se ti affini a un consulente in questo caso in cui guadagni veramente senza fare nulla guadagni senza lavorare se vedrai il mio sito internet Cristiano Rocconi dove può darsi che stai vedendo questo video oppure su Youtube vedrai una serie di consigli pratici utili delle indicazioni dei sistemi per guadagnare col mondo del betting e avvicinarti gratuitamente a questo mondo avvicinarti alla formazione gratuita che faccio vedere con mano toccare con mano come funziona perché è quello che ti consiglio sempre di fare mettere le mani dentro impastare bene le mani in quello che stai per andare a fare o potenzialmente puoi andare a fare ecco il mondo delle scommesse sportive è eccezionale soprattutto e anche per questo motivo è eccezionale perché sai i rischi che ti stai prendendo li calcoli li conosci il tuo analista il tuo consulente li analizzerai li te li farà conoscere e creare uno strumento adeguato per poterteli affrontare per poter far sì che tu che il tuo capitale possa affrontare nel miglior modo possibile per poter far sì che tu guadagni costantemente denaro ogni mese è un'opportunità di investimento veramente incredibile provare per credere come dico sempre detto questo non so più che altro dirti perché veramente volevo aprirti gli occhi a questa opportunità incredibile di investimento opportunità che è veramente distante al mondo dell'affiliate marketing poker trading finanziario dove tantissime persone si fanno male è totalmente distante dal fare un business un business dove devi dedicare tanto tempo tanto lavoro tante energie tante ragioni forse ti ritrovi soprattutto come come ti ritrovavi prima come mi hanno detto tanti clienti ho fatto affiliate ho aperto dei miei business online mi sono ritrovato a lavorare più di prima 24 ore su 24 ci sto mettendo tanto tempo per guadagnare quanto guadagnavo prima con uno stipendio e nonostante questo mi sto ammazzando e non riesco ad arrivare a capo di nulla quindi se fai un business se fai affiliate marketing ci vuole investimenti in euro con tanto rischio ci vuole tanto tempo e sei sicuro che in un anno almeno che non sei fra quel 2-3% delle persone che riescono a generare subito profitti con questi tipi di investimenti è veramente veramente difficile e dura e puoi ritrovarti facilmente sotto detto questo ti ringrazio per la visione di questo video spero di averti aperto gli occhi su questa nuova opportunità di investimento che sta prendendo tantissimo piede nel mercato italiano soprattutto negli ultimi 3 anni detto questo ti saluto e ti rinvio ai miei prossimi video ciao